Ciao a tutti ed eccoci con la seconda puntata legata al pensiero di Galileo Galilei. In questa lezione affrontiamo due temi, uno il contributo che Galileo ha dato alla rivoluzione scientifica dal punto di vista della costruzione del metodo scientifico, il metodo sperimentale di Galileo Galilei, che cos'è, come si compone, quali sono i momenti fondamentali del metodo scientifico secondo Galileo e poi invece anche le scoperte scientifiche importanti di Galileo e in che modo queste scoperte scientifiche hanno portato ulteriori dimostrazioni, prove e elementi appunto dimostrativi scientifici a favore del copernicanesimo, quindi il Galileo teorico della scienza e il Galileo scienziato. Allora, dal punto di vista del metodo scientifico, Galileo ci parla di un metodo che si basi sulle sensate esperienze e le necessarie dimostrazioni. Secondo Galileo la scienza è composta da sensate esperienze e necessarie dimostrazioni, che vuol dire, sensate esperienze, sensate va inteso come due significati, sensate nel senso che devono essere basate sui sensi e quindi soprattutto sull'osservazione, quindi si fa riferimento a un approccio empiristico della scienza. La scienza, quindi secondo Galileo, parte dall'osservazione della natura. Secondo, però, aggiunge nella definizione di che cos'è una sensata esperienza, le osservazioni non vanno raccolte in maniera casuale, semplicemente accumulate insieme, ma vanno sistematizzate attraverso degli schemi logici, quindi raccolte con rigore, con attenzione, vagliate con l'esperienza. Per questo sono sensate, perché dotate di senso, non sono semplicemente osservazioni random che vengono unite senza senso. Quindi sensazione ma anche senso. Necessarie dimostrazioni. È più complesso, lo vediamo in un secondo momento. In questo momento è importante ricordare che le sensate esperienze fanno riferimento al momento osservativo e induttivo del sapere, cioè dall'insieme di osservazioni per induzione arrivo alla formulazione di una legge, mentre le necessarie dimostrazioni saranno il contrario, cioè il momento ipotetico e deduttivo del sapere. Faccio delle ipotesi, deduco le conseguenze e poi vado a verificare se queste conseguenze effettivamente si riscontrano nella realtà. Importante quindi capire che nella teoria della scienza di Galileo, quindi nel metodo sperimentale, non c'è solo un momento che è quello dell'induzione, quindi non soltanto osservazione, ma anche deduzione. Quindi l'insieme dell'osservazione porta attraverso l'induzione alla formulazione di una legge, mentre l'insieme, diciamo, a partire dalla legge si può dedurre alcune conseguenze di una legge stessa e poterle andare a verificare nella realtà. Quindi bisogna capire in che senso parliamo di esperienza e in che senso parliamo di ragionamento. Sensate esperienze, necessarie dimostrazioni. E cos'è una sensata esperienza? Abbiamo visto che la sensata esperienza deve partire dai sensi e deve essere anche però metodica, scrupolosa. In questo senso, per Galileo, riprendendo un pensiero che vedremo anche in Bacone, ancora non abbiamo fatto questo filosofo, ma è praticamente contemporaneo di Galileo Galilei, è un altro grande teorico della scienza moderna insieme a Galileo. Secondo Galileo, e vedremo anche Bacone, la scienza si basa su un principio di rigore, di metodo. La primo approccio è quello di ripudiare la frettolosità. I principi assiomi della scienza devono essere ben fondati. E come si fa? Si fa innanzitutto limitando il campo d'osservazione. Dobbiamo limitare le nostre pretese conoscitive. Questo è un riferimento che ci ricorda un po' anche il bagno d'umiltà che è venuto fuori dal ragionamento di, ad esempio, Guglielmo da Occa. Guglielmo da Occa dice, attenzione, la metafisica non è una scienza. Per essere certi delle nostre conoscenze dobbiamo concentrarci su quello che direttamente viene percepito dai nostri sensi. Quindi ridurre il campo d'azione e concentrarlo su un territorio che è più acquisibile, conquistabile e anche poi vedremo manipolabile attraverso le capacità dell'uomo. Quindi l'uomo può avere conoscenza certa se capisce qual è l'ambito in cui questa conoscenza può essere applicata. Quindi non centrare, cercare a tutti i costi l'essenza, il che cos'è, vi ricordate qui destra, il ti esti, eccetera, ma le caratteristiche, gli aspetti, quello che Galileo chiama alcune loro affezioni o aspetti delle cose. Quindi non la cosa in sé, ma il modo, il luogo, la figura, cioè le caratteristiche che possono essere colte con l'utilizzo dei sensi e misurate attraverso strumenti di osservazioni e attraverso un linguaggio matematico. Quindi bisogna cercare il come si comportano le cose, c'è una descrizione dei fenomeni che si concentra sul loro comportamento misurabile. Non il fenomeno in sé per sé, il che cos'è un fulmine, ma come si comporta l'elettricità, l'aria, il suono, la luce attraverso il fenomeno che io chiamo fulmine, scomporre quindi il fenomeno in sotto insiemi, ognuno dei quali possa essere registrato attraverso il moto, quindi il movimento, il luogo, dove si trova e come cambia e la figura, cioè la sua rappresentazione geometrica. Vedete come si sta passando da un mondo che in qualche modo richiama la speculazione astratta, teorica, metafisica, verso invece un mondo che è quello della scienza più vicina al nostro modo di intenderla, una scienza che analizzi le cose che osserva attraverso gli strumenti della matematica. In questo senso per Galileo bisogna separare le qualità primarie e le qualità secondarie. Che cosa significa? Che esistono effettivamente delle qualità che sono soggettive di un corpo, ad esempio, e delle qualità che sono oggettive, cioè le qualità soggettive dipendono dal modo in cui un soggetto si rivolge alla realtà e nello stato in cui il soggetto si trova, faremo poi alcuni esempi, mentre quelle oggettive riguardano l'oggetto a prescindere dalla condizione del ricercatore. In che senso? Le prime sono qualità, ad esempio, come il salato, il dolce, il caldo, il freddo, il piacevole, il doloroso, il chiaro, l'oscuro, il silenzioso e il rumoroso, sono tutte qualità che dipendono da come il soggetto entra in relazione all'oggetto, da come il soggetto percepisce il soggetto e quindi anche dalle caratteristiche degli organi di senso. Io potrei sentire una cosa più calda e tu meno, è una sensazione quella che abbiamo, più dolce o meno dolce. A seconda di molte cose, anche di come sono conformate i nostri organi di senso, da come il nostro cervello poi rielabora le informazioni. Mentre altre caratteristiche degli oggetti sono quantitative e misurabili e sono indipendenti dal soggetto che le utilizza. Ad esempio abbiamo visto la figura, il modo, l'estensione, sono qualità primarie. Cioè, quello che ci sta dicendo Galileo, per fare scienza bisogna cercare di ricondurre le qualità soggettive nelle qualità oggettive. Cioè, le qualità soggettive non portano una conoscenza certa perché sono appunto diverse da individuo individuo e dipendenti dallo stato di colui che, ad esempio, svolge la prova, l'esperimento in questo senso, mentre le prove, diciamo, le qualità oggettive sono quelle certe e indipendenti da qualsiasi individuo. Dice Galileo, stimo che se noi togliessimo gli orecchi, le lingue, i nasi, restino lo stesso le figure, i numeri e i modi, ma non già gli odori, nei sapori, nei suoni. Cioè, se noi togliamo le orecchie, continua il suono come inteso movimento dell'aria, ma non c'è il suono come percepito dall'individuo, ok? C'è ancora la figura, il numero e il moto di un oggetto, ma non c'è più il suo odore e il suo sapore, perché questi sono effetti dei nostri organi di senso. Quindi, odori, sapori e suoni, i quali, fuori dell'animal vivente, non credo che siano altro che nomi, come appunto altro che nome non è il solletico e la titillazione rimosse le ascelle e la pelle intorno al naso. Se noi rimossessimo le ascelle, non esisterebbe più il concetto di solletico, ma continuerebbe però il concetto di moto, di luogo e di figura di un corpo, anche a prescindere da come noi lo percepiamo, mentre il solletico, ad esempio, è qualcosa che ha a che vedere con il nostro organo di senso. Quindi la natura ha due strati, ok? Noi, come scienziati, ci dice Galileo, dobbiamo cercare le caratteristiche più profonde, lo stato della natura, uno strato della natura più profondo che ci permette di compiere delle deduzioni rigorose e dei ragionamenti sicuri. in questo senso riecheggia nelle parole di Galileo anche un po' un riferimento pitagorico platonico. Vi ricordate che secondo Platone e Pitagora la realtà profonda della natura era nel numero, nei numeri, ok? I numeri esprimevano, la matematica esprimeva la struttura profonda della natura. È una cosa un po' simile quella che ci sta dicendo adesso Galileo. Probabilmente questo suo approccio, questo suo interesse ha, in un certo senso, concettualizzare il mondo come qualcosa fatto a due strati, uno che è più apparente, legato agli oggetti sensibili, alla percezione dei nostri sensi. L'altro, invece, più profondo, ha a che vedere con le quantità misurabili attraverso la matematica e in questo senso possiamo dire che Galileo risente dell'onda della riscoperta rinascimentale degli studi classici di Platone, insomma, del rinascimento fiorentino. Ecco, questo suo approccio, che poi aprirà le porte alla scienza moderna, questa visione della realtà divisa in due strati, uno più profondo e più reale, uno più invece superficiale e più soggettivo, meno affidabile dal punto di vista scientifico, è probabilmente un'applicazione moderna di un'idea antica che è ritornata appunto a Firenze grazie al rinascimento. Quindi queste proprietà quantitative sono l'oggetto della matematica, che quindi ci aiuta a definire in modo preciso gli oggetti, dei quali possiamo avere concetti precisi. Quindi solo degli oggetti descrivibili matematicamente riusciamo ad avere concetti precisi, che non variano a seconda del nostro stato soggettivo. Facciamo un esempio, mentre un oggetto noi lo sentiamo caldo se veniamo da un ambiente freddo, quindi siamo noi sostanzialmente che lo sentiamo caldo perché siamo noi più freddi, ma invece se usciamo da un ambiente caldo lo sentiamo più freddo, ok? Quindi definire un oggetto caldo o freddo a seconda del tatto, ci dice Galileo, non è un modo scientifico perché dipende dalla condizione del soggetto che percepisce. Se viene da un ambiente caldo lo sentirà freddo, se viene da un ambiente freddo lo sentirà caldo, ma al di là di quello che percepisce e della situazione di partenza dell'osservatore, quel corpo è freddo, è caldo, ci vuole una scala oggettiva della temperatura. Ad esempio bisogna quantificarne la temperatura con una scala diciamo come il mercurio. Ecco, usare il mercurio che si dilata a seconda dei gradi di un corpo, si infila un termometro di mercurio all'interno di un fluido e al di là della situazione di partenza dell'osservatore il mercurio segnerà, si dilaterà di una certa dimensione e quindi segnerà proprio come il termometro per la febbre una temperatura che è diciamo costante in determinate situazioni e condizioni di calore, mentre noi non riusciamo ad avere come esseri umani che sono dotati di sensi un concetto stabile del calore di un corpo e questo lo si deduce molto facilmente anche nella vita di tutti i giorni, quante volte in un ambiente qualcuno ha caldo e qualcuno freddo, quante volte si litiga per l'aria condizionata d'estate perché qualcuno sente veramente molto caldo e ha bisogno di raffreddare la temperatura, mentre lo stesso, gli stessi gradi vengono percepiti diversamente da individuo a individuo. Quindi se noi andiamo oltre l'aspetto semplicemente qualitativo di un fenomeno e invece riduciamo le sue qualità a delle quantità come il calore per esempio, lo riduciamo a una quantità di dilatazione del mercurio in una scala diciamo regolata come un termometro, possiamo lavorare sul comportamento dei corpi, la loro misura e il loro volume in diverse condizioni ambientali. Quindi lavoriamo adesso con la matematica e non più con le nostre sensazioni soggettive. In questo senso la matematica e la geometria abbiamo attraverso la matematica e la geometria, secondo Galileo, una correttezza e precisione del punto di vista pari a quella di Dio, ok? Cioè se noi lavoriamo limitando le nostre pretese conoscitive, concentrandosi intensivamente sulle cose che possono essere soggette a studio matematico, abbiamo una conoscenza certa, Dio, gli angeli, tutti gli uomini, due più due fa sempre quattro, la somma degli angoli interni di un triangolo è uguale a un angolo piatto, al di là se si parla di un essere umano di Dio, questo è molto interessante, quindi la matematica ci porta in un certo senso una conoscenza certa quasi come quella di Dio. La differenza c'è però tra l'uomo e Dio perché la conoscenza divina e quell'umana, che sono uguali intensivamente, invece sono diversi estensivamente, Dio è in grado di conoscere tutto ciò che è possibile conoscere, mentre noi come esseri umani ne possiamo conoscere soltanto una parte. Ok, questa è diciamo la base di partenza. A questo punto, una volta che depuriamo l'esperienza degli aspetti qualitativi, si può trovare una legge, cioè si passa dalla osservazione quantitativa dei fenomeni, quindi delle qualità primarie dei fenomeni all'aspetto di formulazione di una legge generale, cioè il corpo X si comporta nel modo Y, perché? Perché abbiamo visto una volta il corpo X si comporta così, una seconda, una terza, una quarta volta, accumulate le esperienze secondo uno schema ipotetico guidato dalla matematica, abbiamo la possibilità di indurre una legge. Naturalmente questa legge però deve essere confermata sperimentalmente, questa è l'importanza, per questo si chiama il metodo sperimentale. Qualsiasi legge, qualsiasi ipotesi, deve essere controllabile intersoggettivamente, cioè altre persone nelle stesse condizioni, diciamo di laboratorio, debbono riprodurre lo stesso fenomeno e quindi confermare la legge. Se invece non la confermano, l'esperienza va contro la legge e quindi la legge viene invalidata e bisognerà quindi costruire un'altra legge, ok? Quindi l'osservazione, l'aspetto sperimentale è necessario per convalidare o falsificare una legge scientifica. Ma come si conduce questa verifica? Secondo Galileo bisogna come fare un interrogatorio a cui noi sottoponiamo la natura, cioè dobbiamo costringere la natura che non ci risponde se non è costretta, incalzata, imbrigliata all'interno delle condizioni sperimentali, cioè bisogna isolare le variabili, creare un ambiente controllato, creare un ambiente controllato all'interno del quale fare le domande alla natura, ok? Ci dice Galileo è come fare un interrogatorio alla natura, al quale noi sottoponiamo la natura alle condizioni che però decidiamo noi. Così noi conduciamo la natura a rispondere in base alle conseguenze che noi deduttivamente traiamo dalle ipotesi. Quindi osservazione porta a induzione, alla creazione di una teoria, dalla teoria si deducono le conseguenze e si fanno le necessarie dimostrazioni. Che cosa sono quindi le necessarie dimostrazioni? Sono dei ragionamenti logici, quindi dal secondo momento, diciamo, del metodo scientifico di Galileo, si parte quindi da una legge, si fanno dei ragionamenti logici che sono condotti su base matematica, quindi si deducono, si derivano da questa legge alcune conseguenze. Quindi sono le necessarie dimostrazioni, sono dei ragionamenti logici condotti su base matematica, sempre la matematica alla base del nostro ragionamento e del ragionamento di Galileo, è questa una grandissima novità della rivoluzione scientifica. Quindi sono dei ragionamenti logici condotti su base matematica attraverso cui il ricercatore, partendo da un'intuizione di base e procedendo per una supposizione, cioè formula un'ipotesi, riservandola poi di verificare quest'ipotesi nella pratica. Quindi intuendo e ragionando lo scienziato anche sulla base di pochi dati empirici, perviene a delle ipotesi da cui deduce il comportamento probabile dei fatti che in seguito si propone di verificare. Quindi io faccio un'ipotesi, da quest'ipotesi deduco un possibile comportamento e cercherò poi di verificarlo nei fatti. Nel dialogo dei massimi sistemi, facciamo un esempio, Galileo scopre per primo il principio di inerzia. Attenzione che a livello di storia della scienza il primo ad aver formulato in modo definitivo il principio di inerzia, cioè il primo principio della dinamica, sarà Cartesio. Galileo è lo scopritore, diciamo, del principio di inerzia, ma non lo descriverà mai in termini matematici definitivi, ma lo userà però nelle sue dimostrazioni molto spesso. Quindi tutti sono concordi a attribuire a Galileo la scoperta fisica del principio di inerzia, anche se la sua formulazione definitiva la farà Cartesio. Galileo userà anche il secondo principio e sarà lo scopritore, diciamo, del secondo principio della dinamica, cioè la forza uguale massa per accelerazione, ma questa formulazione però sarà data invece da Newton. Quindi Galileo apre la strada alla riflessione scientifica moderna, saranno però poi alcuni pensatori successivi a dare una definizione finale, pulita diremmo noi, e matematica delle intuizioni che Galileo userà per dimostrare comunque molte teorie scientifiche ancora prima della formulazione matematica finale di questa legge. Vediamo qual è l'esperimento mentale che ci dice Galileo nel dialogo. Questo è il principio di inerzia, dice immaginiamo una superficie piana, pulitissima come uno specchio e di materia dura come l'acciaio, vedete come si immaginano delle condizioni ideali per l'esperimento, e che fosse non parallela all'orizzonte, ma alquanto inclinata e sopra di essa vi poneste una palla perfettamente sferica di materia grave, durissima, quindi molto pesante e dura e sferica perfettamente. Come, verbi grazia, di bronzo, come deduciamo che si comporterà questa palla? Sarà fermo o si muoverà? Anche senza fare l'esperimento concreto, argomenta Galileo, sappiamo che si muoverà lungo la superficie, lascio cadere questa palla che inizierà a rotolare sul piano inclinato. E se ipotizziamo mentalmente che sia tolta anche l'azione frenante dell'aria e di altri possibili impedimenti esterni e accidentali, come pensiamo si comporterà, ovviamente L continuerebbe a muoversi all'infinito se tanto durasse l'inclinazione del piano e comunemente accelerato continuamente. Cioè si dice, se in un piano inclinato noi togliessimo l'impedimento dell'aria, la sfera si muoverebbe in modo uniformemente accelerato, perché la forza di gravità la accelererebbe sempre in maniera progressiva. Che tale è la natura dei mobili gravi che acquistano forza muovendosi e che quanto fosse più alta la declività, cioè quanto più è pendente, declinante il piano inclinato, tanto maggiore sarebbe la velocità. Quindi l'accelerazione è direttamente proporzionale alla pendenza del piano inclinato, questo sempre in condizioni ideali senza ad esempio il vincolo dell'attrito. Sostituendo poi la superficie inclinata con un'orizzontale, si può anche dedurre che la medesima palla, che è perfettissimamente rotonda, se fonte se spinta sul modesimo piano e squisitamente pulito, continuerebbe indefinitamente il suo moto, ammesso che lo spazio fosse interminato e che non intervenisse una forza esterna a variarne e alzare il moto. Invece, così come in assenza di aria nulla può impedire l'accumulazione di accelerazione, quindi la forza di gravità continua ad attrarre e quindi se non c'è una forza che frena continuamente l'accelerazione continua a crescere, quindi è sempre più accelerato in modo più veloce. Nel piano invece se è perfettamente parallelo, non essendoci questa forza di gravità che è annullata dal fatto che è parallelo il movimento alla forza di gravità e non essendoci forze, come nell'esperimento prima, che bloccano, che impediscono il modo che lo frena, per la stessa ragione dobbiamo immaginare che questa sfera continui di modo rettilineo uniforme, se non c'è qualcosa che la fermi. Ecco come, diciamo, argomentando e deducendo dall'osservazione, si arriva alla formulazione del principio di inezia. Chiaramente in tutto il percorso di Galileo Galilei è molto importante il riferimento allo strumento di osservazione. Sappiamo che una delle più grandi scoperte di Galileo e anche, diciamo, poi foriera a sua volta di ulteriori scoperte sarà proprio l'importanza del cannocchiale. Il cannocchiale che già forse esisteva in Olanda, era stato inventato il principio della lente che ingrandiva quello che si riusciva a osservare, veniva però usata questo strumento per la navigazione, per la guerra, per uso civile, ma non per, purtroppo, avventarlo sul cielo. Quindi, diciamo che Galileo è convinto dell'importanza dello strumento per, diciamo, aumentare proprio la capacità dei sensi, amplificare quello che si può osservare e proprio poter condurre osservazioni impossibili. Questo lui lo farà puntando contro il cielo il cannocchiale e iniziando a scoprire cose pazzesche, cose che prima, appunto, senza l'uso del cannocchiale non si potevano vedere e che, peraltro, saranno, ora lo vedremo, importanti elementi di prova e di dimostrazione della teoria copernicana. La scienza per Galileo e per tutti coloro che faranno poi parte della rivoluzione scientifica è molto legata alla tecnica, proprio perché sia la scienza migliora la tecnica e quindi l'ottica, ad esempio, ha migliorato l'uso del cannocchiale, ma l'uso del cannocchiale migliora la scienza, quindi la tecnica migliora a sua volta la scienza perché permette osservazioni migliori, più precise, più puntuali che dimostrano nuove teorie. La scienza, appunto, costruisce modelli teorici della realtà e la tecnica li applica al mondo naturale e comunque tra scienza e tecnica, questo è un aspetto tipico della rivoluzione scientifica del Secento, c'è una grande legame e l'una fa evolvere l'altra. Galileo è famoso per i suoi esperimenti mentali perché non sempre è facile riprodurre perfettamente le condizioni di un esperimento, gli strumenti dell'epoca non sempre consentivano la possibilità di svolgere l'esperimento in, ad esempio, pensiamo al vuoto, che non era ancora possibile riprodurre e quindi l'attrito dell'aria era sempre presente in queste analisi che Galileo svolgeva sul moto dei gravi. Quindi Galileo è famoso per l'invenzione di esperimenti mentali, cioè di casi in cui mentalmente si eliminano alcuni vincoli, alcuni impedimenti, cercando di riottenere con una prudente ma rigorosa astrazione le situazioni ottimali più vicini possibili alla realtà che con l'esperimento non era possibile prevedere. Infine, importante fa riferimento alla scienza come un oggetto del sapere che è in grado di predire il futuro, cioè la grande importanza nella rivoluzione scientifica del nuovo ruolo della scienza è che la legge generale, se convalidata dall'esperienza, dall'esperimento con il metodo sperimentale, sarà in grado di prevedere il futuro, il comportamento di analoghi fenomeni e quindi l'uso della matematica e l'uso dell'esperimento consente alla scienza di poter prevedere il comportamento di fenomeni naturali o anche di fenomeni artificiali, come ovviamente nella pratica dello sviluppo che fu fatto poi nel 6-700 anche dell'industria, dell'arte militare, insomma gli esiti della scienza saranno poi applicati a moltissimi usi proprio perché in grado di prevedere, se io faccio ad esempio con la balistica calcolo il peso della palla del cannone, l'inclinazione, la resistenza dell'aria, il vento eccetera eccetera, sono in grado di prevedere che la palla di cannone cadrà esattamente in quel punto e quindi grazie a questa predizione posso fare i cannoni fatti in un certo modo perché ho bisogno di ottenere un certo risultato. Prevedere i fenomeni significa anche poter manipolare la realtà. Questo discorso sul metodo scientifico, a quale testo appartiene? In realtà Galileo non scrive un testo specifico sul metodo scientifico, nonostante sia così famoso per l'invenzione del metodo sperimentale, non dedicherà una pubblicazione specifica al metodo sperimentale, ma in diverse opere che parlano di scienze ci sono riflessioni di Galileo sui metodi che aveva seguito o esperimenti mentali che aveva fatto o anche esperimenti reali che aveva compiuto e quindi si può dire che pur non avendoci un testo specifico sul metodo scientifico, in qualche modo le considerazioni metodologiche sulla scienza sono sparse in vari scritti in cui Galileo ci racconta, ci comunica e giustifica i risultati delle indagini, quindi sono dei corollari che sono sparsi nella letteratura di scientifica che Galileo pubblica, oltre le dimostrazioni e le scoperte, inserisce spesso ragionamenti sul metodo che ha seguito per arrivare a quelle scoperte. Ok, partiamo quindi, abbiamo concluso così il racconto del Galileo metodologo, adesso però dobbiamo parlare del Galileo scienziato. Quali sono le grandi novità e le conclusioni rivoluzionarie dell'opera scientifica di Galileo? Nel 1610 esce il Sidereus Nuncius e già in questa prima opera ci sono delle importantissime novità. Che cosa si accorge Galileo usando il cannocchiale iniziando a osservare il mondo, il cielo intorno a noi? Allora, intanto si rende conto che la luna ha una superficie irregolare, ci sono dei crateri, ci sono delle irregolarità nella superficie, non visibili a occhio nudo ma chiaramente visibili con il cannocchiale. Questo già è un elemento che mina la teoria aristotelica, perché i corpi celesti, secondo Aristotele, sono fatti di una materia speciale che è l'etere, che è regolare, perfetta e che si discosta radicalmente dalla materia terrestre. Ci ricordiamo che il mondo terrestre per Galileo è l'origine del movimento perché è fatto dai quattro elementi naturali, terra, aria, acqua e fuoco, mentre tutto ciò che sta dalla luna in su è fatto di quintessenza o etere, che non è corruttibile, sono delle sostanze eterne, perfette, delle sfere che non hanno mai cambiamenti perché le sfere sono, diciamo, degli, in qualche modo, oggetti, delle figure geometriche, perfette. Non solo la luna, ma anche scopre altre cose. La prima è che Giove ha quattro satelliti, quattro lune, che Galileo chiamerà pieni di medici, proprio in onore della famiglia dei medici. Questo anche era del tutto inesplicabile nella teoria aristotelica, perché la teoria aristotelica diceva che la Terra è il centro dei modi planetari e non è possibile che quindi anche Giove sia il centro di modi planetari, perché il movimento era tutto quanto fatto intorno alla Terra, proprio per la differenza anche della Terra rispetto alla materia di cui è composto l'universo. Le macchie solari, il Sole addirittura, non è che è l'esempio anche della luce, della divinità, non è assolutamente perfetto, è incorruttibile. Al contrario, se si osserva il Sole, si osservano delle macchie solari che vengono e vanno e sono soggette a mutamento e sono quindi corruttibili. Infine, forse la prova più importante di tutti, Venere. Venere va in fase. Esistono le fasi di Venere. Il Venere che si vede a occhio nudo come un puntino luminoso, invece grazie al canocchiale si scopre che il pianeta di Venere, ora lo vedremo meglio, ha delle fasi come la Luna e questo sì è del tutto non spiegabile immaginandoci la teoria geocentrica. Ora vedremo perché. Con questa pubblicazione Galileo parla del funerale della scienza aristotelica. Sosterrà che queste dimostrazioni e queste osservazioni sono talmente forti da non poter più permettere una visione del mondo tolemaico, aristotelico tolemaica. Sappiamo che lui già in questa prima fase ha sposato il copernicanesimo. Questo è un esempio delle fasi di Venere. Vedete? Dunque, uno schema che noi possiamo vedere, forse lo vediamo anche meglio nella slide successiva. Ecco, vediamo a destra i due esempi. Allora, questi sono entrambi esempi di possibili fasi di Venere. Allora, se veramente la Terra fosse, come in questo schema viola in alto, ferma e Venere e il Sole girassero intorno alla Terra, Venere in più, vi ricordate gli epicicli, gira intorno a un punto che gira intorno alla Terra. Ecco, se la teoria tolemaica fosse vera, noi dovremmo vedere sempre delle falci di Venere. Perché vedete che, a seconda del movimento di Venere, essendo il Sole dall'altra parte e ruotando il Sole e Venere contemporaneamente, il punto d'osservazione della Terra sarebbe sempre simile a una falce. Ok? Tranne il momento in cui Venere sta allo zenith rispetto al Sole, e allora in quel momento non dovremmo proprio vedere Venere. Mentre al contrario, se immaginiamoci, dice Galileo, vedete l'ipotesi e la necessaria dimostrazione, il Sole è al centro dell'Universo e Venere che gira intorno al Sole e la Terra che gira intorno al Sole, allora noi vedremo che quando Venere si pone a metà strada tra la Terra e il Sole, a questo punto noi vediamo Venere completamente oscura. Mentre via via che si va verso la lontananza massima di Venere rispetto alla Terra, vedete che Venere va in fase, cioè si parte da uno spicchio, da una falce, poi si arriva a metà, poi si arriva a tre quarti e poi si arriva a Venere piena e poi vedete piano piano ritorna invece a essere una falce, esattamente come succede nella luna, si va dalla falce di luna alla luna piena, poi alla luna calante. Ok? Vedete in questo caso un'applicazione pratica delle necessarie dimostrazioni. Ipotizziamo che il Sole e che la Terra sia al centro dell'Universo, allora dovremmo vedere Venere sempre con una falce, per via di questa legge ottica, ma invece noi vediamo Venere diversa e quindi dobbiamo fare un'altra ipotesi, ipotizziamo che la Terra giri intorno al Sole e che Venere giri intorno al Sole, a questo punto noi dovremmo vedere Venere andare in fase, infatti Venere va in fase proprio come fa la luna con la Terra. Questa è una Venere crescente e Venere calante, è proprio una dimostrazione della correttezza quindi dell'ipotesi copernicana e invece una confutazione dell'ipotesi tolemaica. Ma l'attacco frontale di Galileo al sistema tolemaico e a favore della nuova scienza della rivoluzione scientifica e della rivoluzione astronomica avverrà nel dialogo sui massimi sistemi. Il 1632 esce il nuovo dialogo, la nuova opera scientifica di Galileo, questa opera è effettivamente un dialogo, un dialogo tra tre personaggi, cioè Salviati, che impersonifica un po' lo scienziato più avanzato, innovativo, portatore delle teorie copernicane. Simplicio invece è un commentatore aristotelico, diciamo è lo scienziato a favore della tradizione e dell'aristotelismo eccetera eccetera, il nome diciamo è un nome di fantasia sicuramente però che probabilmente anche fa riferimento alla semplicità delle osservazioni naturalistiche, basate solo sui sensi, che difendono la tradizione e ripiutano l'avanzamento della scienza e poi c'è un mediatore che è sagredo, che insomma in un certo senso rappresenta un po' il lettore tipo del dialogo, cioè una persona, in questo caso è un nobile veneziano, che è un medio intenditore di scienza, non un esperto, però è curioso, fa domande, vuole capire quale delle due posizioni, quella appunto copernicano, quella tolemaica, sia quella giusta. È molto importante ricordare, ecco vabbè qui diciamo che il dialogo si sviluppa in quattro giornate, noi vedremo in particolare la seconda giornata che è quella più interessante, la cosa più interessante da ricordare del dialogo dei massimi sistemi è che in questo dialogo Galileo ha l'obiettivo non di portare nuove osservazioni come nel Sidereus Nuncius, ma di cercare di dimostrare la validità della teoria copernicana demolendo le obiezioni che venivano fatte dagli aristotelici. La teoria copernicana prevede che la Terra giri intorno a se stessa e giri intorno al sole, ma questo movimento di rotazione, di rivoluzione avrebbe portato, secondo la fisica aristotelica, che era poi quella accettata all'epoca, una serie di conclusioni che sono paradossali e che non fanno, non, come dire, corrispondono all'esperienza di tutti i giorni. esempio, l'osservazione degli uccelli ci mostra chiaramente che gli uccelli sono sempre in certo modo fermi, anche se si muovono e volano, ma non fanno fatica, tra virgolette, a seguire il movimento della Terra. Che cosa dicevano gli aristotelici? Se la Terra ruotasse su se stessa ha una velocità notevole perché deve finire in 24 ore la rotazione, quindi in effetti è come una trottola, noi non ce ne accorgiamo, ma in effetti la Terra ruota con una velocità incredibile. Ecco, all'epoca questa possibilità era esclusa a priori, perché? Perché fisicamente inspiegabili, in quanto che non esisteva il principio di inezia, che sarà proprio quello che inventerà e scoprirà Galileo. In che senso? Gli uccelli, secondo gli aristotelici, se la Terra gira così fortigosamente, dovrebbero fare una fatica pazzesca a seguire il movimento della Terra, ok? Mentre vediamo che volano indisturbati. Una pallina di cannone, se io metto il cannone a perpendicolare rispetto alla mia testa e sparo una pallina in cielo, nel frattempo che la pallina vola, la Terra a questo punto, secondo i copernicani, dovrebbe ruotare verso est e quindi la pallina che ritorna poi sul suo posto non dovrebbe cadere esattamente in testa al soldato che l'ha sparata per fare questo esperimento, ma dovrebbe andare ben verso occidente, perché nel frattempo la Terra si è spostata verso oriente, ruotando verso oriente, ok? Altro esperimento, se io metto due cannoni esattamente uguali, uno che guarda verso oriente, uno che guarda verso occidente e sparo contemporaneamente la palla, beh, io poi vado a misurare la distanza del cannone 1 con la pallina 1 e del cannone 2 con la pannilla 2, dovrei vedere due distanze molto diverse, perché la pallina 1, che è nella stessa direzione del moto terrestre, io nel frattempo che la pallina era in viaggio, avendo diciamo il cannone, il punto d'osservazione girato verso oriente, avrebbe quindi una distanza minore, mentre la pallina che io ho tirato nel movimento contrario alla Terra, chiaramente l'ho persa all'orizzonte, dovrebbe essere quindi una pallina molto più vicina al cannone 1 e la pallina 2 molto più lontana, invece vado a misurare che le due palline sono esattamente allo stesso distanza, quindi secondo gli aristotelici la Terra sta ferma, non si può muovere, se si fosse mossa io vedrei delle cose come questa delle palline, delle palle di cannone che si dovrebbero comportare in modo diverso, invece vedete, diciamo gli aristotelici, io tiro una pallina e cade esattamente nel punto in cui io l'ho previsto, cioè esattamente nel punto in cui l'ho tirata, questo vuol dire che il cannone, il soldato, la Terra e tutto il resto è stata ferma e non si è mossa. Cosa manca a questa teoria? Manca il fatto che la scienza ovviamente all'epoca non prevedeva il principio di inerzia, occorreva quindi per Galileo non solo dimostrare con nuove osservazioni come aveva già fatto il fatto che i movimenti dei pianeti non erano spiegabili con la teoria tolemaica, ma serviva una nuova fisica, occorreva quindi buttare giù la fisica aristotelica. La fisica aristotelica ci parla di un moto naturale e di un corpo che dipende dai suoi elementi, quindi il sasso cade verso la Terra perché è composto prevalentemente di Terra, mentre per la fisica galileiana esiste un unico moto naturale dei corpi, quello che va verso il centro della Terra, tutti i corpi sono attratti dalla Terra, ma soprattutto ad esempio la velocità di caduta che per Aristotele nella caduta di un grave sostanzialmente si cresceva la velocità in modo proporzionale al peso, invece Galileo scoprirà la legge di caduta dei gravi, cioè un corpo grave con un'accelerazione proporzionale al quadrato del tempo di caduta, quindi la forza è costante, la forza di gravità ed è indipendente dalla massa diciamo del corpo, cioè dal peso, cioè implica che tutti i corpi ricevono per natura la stessa accelerazione, anche se rivediamo cadere con velocità diverse. Questo perché? Perché ovviamente c'è sempre l'attrito che frena un corpo rispetto a un altro, ma in condizioni ideali senza attrito, quello che poi è l'esperimento di Torricelli, si vedrà che nei tubi che sono privi di aria, il vuoto, ecco nel vuoto i corpi cadono alla stessa velocità perché non c'è l'attrito dell'aria fermata. L'esperimento che ha provato a fare si basa su questi tiposi, cioè scusate ma se io prendo un corpo, una palla di legno e la lascio cadere questa avrà una certa velocità, se io metto due palle di legno in simultanea queste cadranno alla stessa velocità se sono uguali, ma se io le unisco non è che loro vanno al doppio della velocità, cadranno come due, che differenza c'è tra due palle di legno vicinissime e due palle di legno che si sfiorano? quasi a comporre un'unica palla di legno, quindi se io vedo due palle di legno che si toccano, queste cadranno alla stessa velocità di due palle di legno che sono leggermente separate, ok? E poi è famoso in questo, quindi la velocità di caduta non dipende dal peso, ma è costante, infatti un esperimento che fece della palla di, nella torre di Pisa, fece cadere una palla di legno, una palla di ferro di uguali dimensioni e vide che la palla di ferro pesava il doppio della palla di legno e quindi sarebbe dovuta andare al doppio della velocità e invece arrivano praticamente a coincidere nello stesso istante, la palla di legno arriva soltanto a un istante prima e questo era spiegabile per via dell'attrito dell'aria. Ma arriviamo alla ciccia, diciamo, e alla tesi forse più importante che poi comporterà l'esperimento famoso e molto bello che si chiama esperimento del grannaviglio. Il principio di relatività galileiano, l'abbiamo già un po' visto in Bruno, ma con Galileo trova la sua più importante, diciamo, dimostrazione. Se si fa parte di un sistema di riferimento è impossibile capire se l'altro sistema si muove o se siamo noi a muoverci. L'esempio di tutti i giorni, se siamo fermi alla stazione in treno e vediamo un treno vicino a noi che si muove, non siamo in grado, se non vediamo per terra le rotaie o il cielo, o altri punti fermi, tra virgolette, di capire se siamo noi il sistema in movimento o l'altro treno. E questa è la stessa cosa che vale anche per il movimento dei pianeti. Dal punto di vista dell'osservazione è impossibile stabilire a priori, con la sola osservazione empirica, se è il sole che si muove o è la terra che si muove. In questo senso, quello che viene creato da Galileo Galilei è il principio di inerzia, cioè il sistema inerziale, la terra, è un sistema inerziale che si muove in maniera solidale, trasferisce il movimento a tutte le parti della terra. La terra si muove, ma non solo, quindi questa è la risposta agli aristotelici, non è solo la terra che si muove e l'aria che sta ferma. Tutto il sistema terra si muove, anche l'aria e tutto ciò che è contenuto e quindi gli uccelli non volano via, perché, come dice Galileo, la terra, siccome conduce secolo e nuvole, cioè siccome conduce l'atmosfera e le nuvole, così porta agli uccelli ed ogni altra cosa che in essa vi si trovasse pendente, tal che, quanto a seguir la terra, gli uccelli non vanno a pensare e per questo servizio potrebbero dormire sempre. Cioè, dice, solo per... chiaramente non possono dormire, se no precipitano perché la legge di gravità gli farebbe cadere. Ma per il fatto di seguire il movimento della terra, fanno parte di un sistema inerziale che sposta il movimento e trasferisce il movimento in modo solidale in tutte le sue parti. Quindi, l'esempio degli uccelli non è applicabile perché gli uccelli stanno fermi sia se la terra è ferma, sia se la terra si muove. Capito qual è il punto? Quello che sta cercando di dimostrare Galileo è che le tesi degli aristotelici, le confutazioni, le obiezioni degli aristotelici che dicono non è possibile che la terra si muova perché altrimenti gli uccelli sarebbero risucchiati dal vortice della terra, lui gli sta dicendo no, è impossibile con l'osservazione capire se la terra si muove o no perché sia se la terra fosse ferma, sia se la terra si muovesse, gli uccelli comunque sarebbero attaccati all'atmosfera e sarebbero quindi condotti dallo stesso movimento solidale con l'atmosfera, con le nuvole e con tutto quello che circonda la terra. Si passa quindi da un mondo in cui c'è uno stato naturale dei corpi che secondo Aristotele era la quiete, quindi dalla quiete, secondo Aristotele un corpo passa al moto grazie all'esercizio di una forza esterna, per Galileo il movimento di un corpo rallenta e si ferma grazie a forza come l'attrito che l'ostacolano. Quanto più debole è la forza ritardante, quanto più debole è la forza dell'attrito fino ad arrivare a zero nel caso del vuoto, tanto più tempo corre a un corpo per passare dal movimento alla quiete. Quindi una sfera liscia che viene fatta rotolare sul ghiaccio impiega più tempo a fermarsi di quanto ne impiegherebbe se rotolasse sulla pietra. Galileo non formula la legge, ma afferma con audacia che se un corpo il movimento non esercitasse alcuna forza, nemmeno quella di gravità, essa continuerebbe a muoversi indefinitivamente. Ok, questo è l'esempio del grannaviglio, è un esempio famoso, molto bello, non lo leggiamo interamente, ma discutiamo però di che cosa parla. Dice fate finta di salire su una nave, nella pancia di una nave, di una grande, grandissima nave, dentro questa nave sotto coperta c'è un tavolo da biliardo con le palline, una uccelliera con degli uccelli, una goccia di acqua di un rubinetto che cade in una bottiglia con il becco molto stretto e n altre cose, diciamo di questo tipo. La nave sta ferma e vedrete che la goccia cade esattamente, gli uccelli sono fermi e le palline sono ferme. Immaginiamo che invece di stare ferma la nave si stia muovendo però non in accelerazione ma in modo rettilineo uniforme, ok? In un modo rettilineo uniforme senza onde, quindi facciamo finta che il mare sia calmo e che la nave vada esattamente a una velocità stabile. Che cosa succederebbe secondo voi? Beh, ve lo dico io, dice Galileo, che le palline rimangono ferme, non vengono diciamo risucchiate dal movimento, la goccia continua a cadere esattamente al centro e non viene spostata a destra o a sinistra, gli uccelli rimangono tranquillamente fermi o volano come prima all'interno dell'uccelliera, non vengono schiacciati contro le pareti. Perché? Perché la nave è un sistema inerziale, cioè tutto il movimento della nave è trasmesso alla gabbia, è trasmesso alla bottiglia, è trasmesso all'aria che sta dentro la nave, è trasmesso a tutto ciò che fa parte di quel sistema chiuso. Quindi, questa è una metafora ovviamente, il nostro mondo è come quella nave e il movimento degli uccelli, di ciò che osserviamo, le palline di cannoni o di biliardo dell'acqua e tutto il resto è esattamente identico sia se il corpo sia in quiete, sia se il corpo sia in moto rettivo in uniforme. Si passa da una fisica aristotelica dove c'è una differenza tra il moto naturale e il moto violento, quindi il moto violento è il moto che viene impresso a un oggetto, mentre quello naturale è quello della caduta, dell'alto verso il basso, oppure il fuoco e l'aria che vanno verso l'alto, invece a una fisica in cui il movimento di un corpo dipende dalla combinazione di moti a cui è sottoposto, c'è sempre moto che interviene e sottopone i corpi a cambiamento. Secondo Aristotele un corpo è soggetto a un solo tipo di moto alla volta, mentre al contrario, per Galileo, l'accelerazione centrifuga che è prodotta dalla rotazione terrestre non può essere percepita perché si combina con quella della gravità, che è più forte nella loro effetto. Quindi un'altra cosa, ma come facciamo noi a non sentire questa forza centrifuga che ci sparerebbe dalla terra verso fuori come in una fionda, come una fionda che ha una forza che va, una forza di accelerazione circolare che la spingerebbe verso l'esterno, perché c'è una combinazione di forze. In realtà non è vero che un corpo può essere soggetto a un'unica forza, ma può essere soggetto a molte forze. In questo caso noi siamo soggetti a una forza centrifuga, perché la terra gira su se stessa e ci farebbe volare in aria, ma anche centrifuga, ma anche centripeta, perché abbiamo la forza di gravità che annulla la forza centrifuga della rotazione terrestre. Infine, i discorsi di dimostrazioni matematiche sulle due nuove scienze, ci sono ulteriori osservazioni sul vuoto, quindi ecco, un altro passaggio importante, ritorna il concetto di vuoto nella fisica, sapete che nella fisica aristotelica natura horror vagui, la natura ha paura del vuoto e quindi non c'è nulla di vuoto, invece la sperimentazione dei gravi poi sarà fatta qualche anno dopo proprio grazie alla possibilità che Torricelli realizzerà di fare delle, diciamo, di togliere la pressione a dei tubi di vetro e farli finire sotto vuoto, quindi in più l'atomismo che viene ripreso da Galileo e ritorna, diciamo così, un po' nella riflessione scientifica e poi tutta una serie di dimostrazioni su che abbiamo già visto qui e lì, sul modo uniforme, uniformemente accelerato e il principio di inerzia. Terminiamo il nostro ragionamento con quindi le conseguenze di questo nuovo pensiero scientifico. chiaramente abbiamo con Galileo l'inizio della scienza moderna e una grande spaccatura che si viene a creare, questa è la ragione per cui Galileo subirà ben due processi, tra la scienza e la fede, la religione. Perché questo avviene? Soltanto per una necessità di mantenere da parte della Chiesa la teoria tolemaico-aristoterica, solo per evitare che la scienza, in un certo senso, strappasse dalle mani della religione il controllo della cultura e del sapere. In realtà c'è di più. La Chiesa, nel corso dei secoli, ha compiuto un grandissimo sforzo di riflessione filosofica, teorica, per dimostrare la compatibilità della nuova fede, che abbiamo visto nasceva fragile prima di Agostino e poi di Tommaso, con un sapere più profondo, elaborato dai greci, dai latini. Quindi questo sforzo, che è proprio quello di dare una dignità filosofica al cristianesimo, dimostrando la sua razionalità, quindi il fatto che non è irrazionale la fede, ma che invece si sposa con la sapienza antica, aveva comportato l'assunzione di un mondo non solo della metafisica, ma anche della fisica greca. Quindi capite bene che per dare dignità filosofica e razionalità alla religione, oggi noi abbiamo una visione diversa, la scienza va da una parte e la religione dall'altra, ma all'epoca invece la scienza doveva in certo senso venire a favore della religione, doveva giustificare la razionalità della religione. Questo, diciamo, percorso che ha visto la patiristica, la scolastica, culminare appunto con le grandi recuperi e rielaborazioni di Aristotele e di Platone, era in un certo senso messo in discussione da, che ormai appunto era una parte integrante, indispensabile della visione cristiana delle cose, quindi veramente era non solo rinunciare alla sapienza antica, ma anche a come si era venuta a conformare nel tempo la religione cristiana, che in un certo senso fondendosi con la teoria scientifica, filosofica della Grecia antica e di Aristotele soprattutto. Per tale motivo nel crollo del sistema della fisica aristotelica si è potuto vedere il crollo dell'immagine del mondo cristiano. Calvino, ad esempio, che era contrario alla rivoluzione copernicana, diceva che avrà all'ardire di anteporre la dottrina di Copernico a quella dello Spirito Santo. E Bellarmino, che appunto avrà, è un intellettuale, che abbiamo già visto in opera con Giordano Bruno e sarà uno degli arbitri anche del processo di Galileo, consideri ora lei, se la Chiesa può sopportare, che si dia alle scritture, accettando quindi le teorie copernicane, un senso contrario agli santi padri e a tutti gli espositori greci e latini. Qual è la soluzione galileiana di questo imbarazzo, la scienza che va contro la fede? Ma in realtà, secondo Galileo, non è vero che la scienza va contro la fede, perché la scienza ha un altro interesse completamente diverso, un altro ambito di interesse della fede. La Bibbia non è un trattato di astronomia. Gli autori non hanno mai preteso di insegnare la costituzione dei cieli, dei movimenti delle stelle. La Bibbia non ha una finalità didattica, ma una finalità descrittiva, diciamo, per i quali Dio, sostanzialmente, quello che dice la Bibbia ha a che vedere con la salvezza dello spirito, con l'anima, con la morale, con la religiosità dell'uomo, ma non per i fenomeni naturali. La Bibbia non ha spiegato come si va in cielo, ma la Bibbia ci ha spiegato come si va in cielo, non il modo in cui il cielo sia fatto e quali leggi lo regolino. Quindi le affermazioni cosiddette scientifiche della Bibbia vanno interpretate in senso figurato. Perché? Perché il linguaggio della Bibbia, dice Galileo, è stato sostanzialmente, il messaggio della Bibbia, è stato sostanzialmente scritto per permettere la comprensione da parte di persone che non erano in grado di conoscere la verità delle cose, in senso figurato, in senso comprensibile. Quindi la Bibbia ha applicato un pensiero semplificato, un linguaggio semplificato, e non aveva come obiettivo quello di, invece era l'obiettivo della scienza, di spiegare in modo compiuto, in modo definitivo, in modo scientificamente valido, le verità della natura. che quindi le affermazioni scientifiche, visto che la Bibbia non è lo strumento con cui valutare la scienza, ma un mezzo per giungere alla salvezza dell'anima, le affermazioni scientifiche sono indifferenti alla sua autorità. Galileo quindi ci sta dicendo che la scienza deve essere autonoma dalla fede. Ci sono verità della scienza, che descrive il fenomeno secondo un metodo matematico, le verità della scrittura, che invece indicano all'uomo la via per la salvezza. Bellarmino non accetterà questa soluzione, ma al contrario cercherà una soluzione diversa, che si chiama strumentalistica, strumentalismo, una soluzione simile a quanto era stato messo da Osiander nella prefazione del De Revoluzionibus, cioè si sostenere che è benissimo, si può dire che il Sole al centro e la Terra gira intorno al Sole, e quindi la teoria copernicana, al fine di salvare le apparenze meglio che non con il porre gli eccentrici ed epilicidi, ma che si può parlare soltanto ex supposizione, cioè sta dicendo che se da un punto di vista matematico è meglio, è più comodo dividere il mondo con la Sole che sta al centro e la Terra che gira intorno, perché questo fa in qualche modo tornare meglio i conti dal punto di vista matematico, quindi la teoria funziona meglio, allora sì, ma non bisogna però parlare di realtà, la realtà non può essere quella che la scienza ci propone nel momento in cui va contro le verità della scrittura, quindi la realtà, la verità rimane quella della scrittura, ma è accettabile per Bellarmino, però, una teoria scientifica che solo per supposizione cambi le cose, non pretendendo però di descrivere la realtà per quello che è, per indicare la vera realtà delle cose. Quindi per strumentalismo si intende questa dottrina che ritiene le teorie scientifiche dei modelli strumentali che rappresentano il mondo, in modo da poter prevedere i fenomeni, quindi sostanzialmente una costruzione teorica che serve a poter prevedere i fenomeni, senza però la pretesa di dire di come i fenomeni funzionino realmente e che cosa siano, mentre lo strumentalismo di Bellarmino si scontra con il realismo di Galileo che, diciamo, malgrado alcune prudenze nel dialogo, ha sempre fatto capire nel corso delle sue ricerche che si affidava ai risultati come una verità reale delle cose, non come un modello interpretativo più agile e funzionale. Quindi Bellarmino dice, sia la scienza, se è un modello interpretativo, agile e funzionale, si può parzialmente discostare, ma solo funzionalmente per i calcoli, dal punto di vista ipotetico-matematico, dalla Sacra Scrittura, Galileo invece, no, le cose stanno esattamente come si osservano e come dice la scienza. Quindi la scienza non è solo un modello teorico, ma è anche un'interpretazione reale della realtà. Occorre dire, e qui finiamo, che lo strumentalismo nel corso dello sviluppo della scienza si è giunti alla consapevolezza che i vari e sempre più numerosi modelli di interpretazione della realtà non possono sempre essere decisi in modo sicuro da esperimenti che confermano un modello piuttosto che un altro. Quindi l'ottimismo della rivoluzione scientifica non sempre nella storia della scienza è stato fatto proprio. Si sono visti dei campi in cui effettivamente la scienza non è in grado di dire com'è la realtà di un fenomeno, ma piuttosto le soluzioni scelte sono state scelte perché più funzionali, più semplici, più matematicamente eleganti, più facilmente applicabili tecnicamente, piuttosto che a quale fosse realmente l'aderenza finale alla realtà. Non ultimi interessi sociali, economici, politici che ruotano intorno alla scienza hanno pesato nel corso della storia della scienza molto sulla scelta di una teoria scientifica piuttosto che un'altra, per cui nel corso del Novecento, lo vedremo nel programma del prossimo anno, lo strumentalismo è effettivamente un approccio che alle volte è stato utilizzato dagli stessi scienziati, cioè si sceglieva la dottrina e la teoria che meglio funzionava, cioè che appariva più coerente, più convincente e soprattutto più capace di fare previsioni, più utile, in una sola parola, più utile agli scopi dell'uomo. Ecco, questa doveva essere scelta senza interrogarsi interessanti, interessarsi necessariamente alla sua verità. Qualcuno dice, e qui chiudiamo, lasciando la questione della verità nelle mani di chi, filosofo, teologo che sia, ha maggiore, tradizionalmente maggiore dimestichezza con il concetto. Cioè alcune volte gli scienziati si accontentano di spiegare i fenomeni senza entrare in dispute sul realismo e su come è composta la realtà, laddove appunto si tratti alle volte di scelte basate più su convenienza della teoria, e eleganza, funzionalità e capacità predittiva.